... Serratissima la lotta per il comando di Entrabene Lapidario, ma a largo interviene Mistralgar e a largo Lachiluciano, oggi molto sollicito, scende Mistral, chiede strada a Lachiluciano e per rispetto al nome, passa al comando. 13.4, e così Lachiluciano ad aprire le danze, al completamento dei 400, passati in 29.2. Punta in avanti Lapidario, risponde Lachiluciano. I due danno vita a una retta davanti alle tribune molto sostanziosa. 43.600, desiste Lapidario o quasi, Lachiluciano può un po' respirare, viene via, i ritardatari vengono via. Capeggiati da Nelson, mezzo miglio, 59.4, Lachiluciano, Mistral, Lapidario, Gazzoli, Galoppa Nelson e viene via la favorita Norma Jet. E Norma Jet con azione redditizia va sui privi. Eh, azione redditizia, sta già passando la Norma. 14.5 il chilometro, eh, mi sa che suona una bella sinfonia questa Norma. Poi che scappa via, viene via Fonseca. 14.2, 28.7, tre quarti di miglia. Si libera anche Mistralgar. La Norma per conto suo. E vediamo se c'è ancora un acuto di questa Norma in retta d'arrivo. Tony Young, Norma. Un ottimo Fonseca avvicinato da Mistral. Chiude la partita come quando vuole la Norma. Mistralgar in zona traguardo. Batte un ottimo Fonseca col giovane Maisto. 12.6.2, 1.59, 1.14.4, 2.67 in chiusura. Favorita al betting, al totalizzatore. Favorita anche in corsa da una chilometro veramente micidiale da parte della testa. Lei è servita a dovere, spazia a piacimento. Bene Mistralgar, benissimo Fonseca. Non era la sua distanza, ma il giovane Maisto ci pensa lui a pilotarla al meglio. Probabile ufficioso arrivo. Grazie.